Piscamento Piscamento è qualcosa di integrale e di cultura di Arrua. Non so nemmeno sapere. E con il piscamento, naturalmente, è sopra di piscare, ma in mente. Voi sapete di un differente tipo di sopra di piscare? E con il piscamento di acqua di playa, è sapete un sopi differente, specialità di piscadona. E c'è un ingrediente specifico e c'è un tradizione su tra. Voi ascoltare di noi piscadona storia. Imaginavo un tempo prima che tu le hotel a venire e piscadona a subire la mani in la tigra terra con la reda, con la captura. E non c'è mai tra un sopi. Escucha qui non? Conta tra un sopi. Conoci come a Awa di Playa. La città è una città. La città è una città. Nel nostro corso gratuito è un lavoro di acqua e lo ne sono stati e noi, per quanto riguarda il gioco, sono stati di acqua e sono stati di acqua, ci sono stati di acqua e ci sono stati messi, ci sono stati massi. Questo è il sistema di rumpa, ma è più difficile per un solo pescaro. Se lei sta piscicando, può tenere due candidati. Se pone una beca e si pone due candidati, siano differenza. Si non lo vuole, si pone un pawec che lui fissura. Si viene portante, può tenere due candidati, potete fare due candidati, tenere molto forte. Ma io però sentiamo il ramacca. Sì che è plato da venne? Prope' agua di playa Pischporto per l'importo di Dio Prope' agua di playa, Roberto Pischporto per l'importo di Dio